Presidente Beci, il calcio pescarese sbarca in Cina grazie a questo importante progetto curato dalla Camera di Commercio con la Proger. Non è un progetto però solo sportivo. Assolutamente, è un progetto che riguarda più ambiti e quello che abbiamo tenuto a sottolineare nella conferenza stampa, proprio lo stare insieme, il muoversi insieme, perché confrontarsi come una realtà come quella cinese che ha dei numeri per noi impensabili, ecco, un sistema come quello abruzzese, fatto da una popolazione di 1.350.000 persone, deve assolutamente muoversi in sinergia. Va ringraziata la Proger SPA che ha questo tipo di abitudini, le vive quotidianamente, ormai è una realtà internazionale Proger che opera in diversi paesi e su quasi tutti i continenti, penso gli manchi solo in Nord America e l'Australia, dopodiché dalle altre parti è presente con uffici e con iniziative. Per cui noi abbiamo preso al volo insieme alla Pescara Calcio questo carro su quale la Proger ci ha chiesto di collaborare e devo dire che la prima esperienza è stata assolutamente positiva, fatta di incontri ad altissimo livello, soprattutto da un ritorno che ci sarà alla fine di giugno da parte di importanti autorità della provincia del Fujiyang, che sicuramente quella del Fujiyang è una realtà che ci ha sorpreso in senso positivo notevole, dove la qualità della vita, contrariamente a quello che noi pensavamo, è quasi di livello europeo. Se lei pensa che c'è un reddito pro capito di 10.000 dollari, che per la Cina che si è affacciata ai mercati internazionali da pochissimo, vuol dire un salto eccezionale da tutti i punti di vista. Per cui ribadisco il concetto, noi seguiremo questo progetto con grande attenzione, le aziende che abbiamo portato, circa 16 aziende del settore vitivinicole della moda che sono state con noi in Cina, sono rimaste soddisfatte, daremo sicuramente seguito a questa iniziativa.